23esimo un brivido per il pareggio di Luiz Oliveira che si destregia bene in aria e poi anticipa in uscita a Stercali Mella Cagliari 23esimo un brivido per il pareggio di Luiz Oliveira che si destregia bene in aria e poi anticipa in uscita a Stercali Mella Cagliari una furia scatenata e nel volgere di 180 secondi travolge letteralmente la retroguardia di